Alla ricerca dell'anima, di e con Fabio Giuha e Giampaolo Delbianco. Ciao a tutti da Fabio Giuha e da Giampaolo Delbianco e benvenuti a questa nuova puntata, a questa nuova tappa del nostro viaggio alla ricerca dell'anima. Ciao Giampi, come stai? Molto bene, tu come stai? Molto bene, poi oggi devo dire che è una puntata che per noi almeno è attesissima. Sì, in effetti siamo veramente contentissimi. Già, e allora naturalmente come sempre prima di entrare nel vivo ricordo a tutti coloro che ci ascoltano e che non l'avessero ancora fatto di iscriversi ai nostri canali, al nostro canale YouTube, al nostro canale Telegram, al nostro gruppo Facebook, per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove puntate in uscita, tutte le varie pillole che verranno, no Giampi? Ormai siamo quasi in tempo di pillole. Sì, sì assolutamente, stiamo preparando delle cose speriamo interessanti. Bene, e tornando appunto alla puntata di oggi, dicevamo che è una puntata attesissima perché tra di noi lo diciamo da un po'. Quando è che organizziamo una puntata per parlare di questo personaggio molto… Direi fondamentale. Ecco, direi fondamentale ma anche dibattuto e non da tutti conosciuto poi. Da qualcuno frainteso. Esatto. E' una bellissima cosa parlarne soprattutto con una persona veramente molto esperta e che ne ha titolo. Assolutamente sì, infatti il punto successivo era proprio con chi ne parliamo, però fortunatamente abbiamo trovato direi proprio la persona giusta. Lei è una giornalista e scrittrice che nella sua ormai più che decennale carriera ha pubblicato saggi a tema religioso sull'insegnamento, sul mondo del paranormale, della parapsicologia e sulla spiritualità. Ed è un grandissimo piacere oggi avere con noi Paola Giovetti. Ciao Paola, benvenuta. Ciao a tutti voi, grazie per l'invito che accolgo molto volentieri. Grazie a te davvero per essere venuta a trovarci. E come dicevamo oggi vorremmo parlare di questo personaggio veramente straordinario che è stato Gustavo Roll. Del quale tra l'altro tu proprio recentemente hai scritto un libro che facciamo anche vedere. Eccolo qua. Gustavo Adolfo Roll, l'uomo oltre l'uomo con lettere, diari e testi inediti. Edito da edizioni mediterranee. Dicevamo prima che tu hai pieno titolo a parlare di Gustavo Roll perché l'hai conosciuto. Infatti, guarda, non avrei mai pensato di scrivere un libro su di lui se non l'avessi conosciuto e soprattutto se non avessi avuto accesso all'archivio della città di Torino dove sono stati abbastanza di recente depositati i materiali, i documenti inediti di Roll. Cioè ben duemila lettere, della quale una parte scritta da lui quando era molto giovane e si trovava all'estero per motivi di lavoro, scritti alla famiglia, e una grande quantità di lettere di persone che hanno scritto a lui. Tra queste persone ci sono personaggi celebri tipo Fellini, Nino Rotta, Zeffirelli, Tutta la Fiat che era in contatto con lui, cioè Romiti, Agnelli, eccetera, eccetera. E poi tante lettere di persone normalissime come tutti siamo che scrivevano a lui per ringraziarlo. Questo mi ha molto coinvolto e commosso. Cioè centinaia di lettere di persone che gli scrivono ringraziandolo di quello che lui aveva fatto per loro. Prevalentemente, oltre magari a fare delle diagnosi, delle guarigioni, dare consigli, lo ringraziavano di essere stato per loro un maestro di vita. Cioè una persona che aveva dato un indirizzo alla loro esistenza, aveva fatto capire che la loro esistenza doveva volgere in una certa direzione, doveva essere più introspettiva, più obblattiva, più generosa, più attenta agli aspetti spirituali della vita. E di questo lo ringraziano. E questo mi ha veramente molto commosso. Allora, nel mio libro ho citato alcune di queste lettere, chiaramente non tutte perché sono centinaia e centinaia, giusto per dare un esempio di quello che questo uomo ha lasciato. Cioè oltre alla straordinaria vicenda dei suoi fenomeni, la sua vita, eccetera, eccetera, anche questo insegnamento. Ecco, e a proposito di questo, per chi non conoscesse il personaggio in sé, non ne avesse mai sentito parlare, come potremmo presentarlo appunto a chi non ne ha mai sentito parlare? No, no, ma questo è esatto quello che dici, perché noi che ci occupiamo di lui, che ci occupiamo di questi temi, sappiamo perfettamente chi è da una vita. Molti magari non lo conoscono affatto. Per esempio, quando è stato proiettato il film di Anselma Dell'Olio, al quale ho collaborato, e sono andata a vederlo, molti mi riconoscevano fuori dalla sala, perché sono dentro al film, e però mi esprimevano anche la sorpresa di aver conosciuto un personaggio così straordinario di cui Cieno conoscevano il nome, e quindi c'è proprio bisogno, se qualcuno è curiosito, di presentarlo. Lui è stato certamente un personaggio unico, di quelli che ne nasce uno ogni centinaia d'anni, a mio giudizio, e non soltanto a mio giudizio. Nasce a Torino, quest'anno si celebrano i 30 anni della sua morte, lui è vissuto 91 anni, è nato a Torino nel 1903, ed è morto sempre a Torino nel 1994, quindi quest'anno sono 30 anni. Devo dire che il ricordo di lui è sempre più intenso via via che passa il tempo, non è che ci si dimentica, sono usciti tanti libri, oltre al mio, il mio fra l'altro è l'unico che ha questi documenti inediti, però ne sono usciti anche altri, vuol dire che c'è un coinvolgimento. Comunque lui nasce a Torino in una famiglia della buona borghesia, dell'alta borghesia di Torino, il papà è fondatore e direttore della Comit di Torino, e quindi una famiglia anche corta, quindi lui fin da ragazzino ha la possibilità di leggere, di studiare, di attingere alla tradizione familiare, alla biblioteca di famiglia, eccetera. Si iscrive, compie gli studi a Torino, vado molto velocemente, si iscrive alla facoltà di legge, e è un uomo giovanotto bellissimo, fra l'altro, come io l'ho conosciuto aveva quasi 80 anni, era ancora un uomo straordinario, alto, slanciato, elegantissimo, ironico, ma proprio un uomo di una piacevolezza straordinaria, come se ne sono pochi, galante, con il signore e così via. Molto ricercato chiaramente dalle ragazze, all'epoca in cui era all'università, per cui lui perde un po' di tempo, e poi il padre, indispettito di questa cosa, senza dirgli niente, lo fa assumere dalla banca. E lui si trova impiegato della Comet, mentre avrebbe voluto fare tutt'altro, cioè avrebbe voluto fare giornalista, dedicarsi all'arte, come poi sempre fatto. Però accetta, e lui ha una grande, le lettere sue dimostrano che devozione lui avesse nei confronti del padre, quindi accetta questa cosa per far piacere al padre, però al padre dice che non vuole stare a Torino, non vuole fare all'impiegato a Torino, e che andrà all'estero, vuole imparare anche bene le lingue, infatti sarà prima in Francia, prima a Marsiglia e poi a Parigi, e poi in Inghilterra, Londra, Edimburgo, eccetera, che sarà fuori dall'Italia parecchi anni. Quando parte a 22 anni, e ritorna, quindi siamo nel 25, quindi un secolo fa praticamente. Le lettere di cui citavo prima, queste lettere alla famiglia, sono conservate in archivio a Torino nelle veline, cioè le veline che Rol teneva per sé e non le originali, quindi sono veline molto delicate, per cui anche andarle a consultare, ci vuole dei permessi speciali, perché è roba veramente molto fragile. Avviene che lui, a Marsiglia, in questo primo periodo all'estero, conosca un fantomatico, perché non lo sappiamo altro di lui, Polacco, che era nella sua stessa pensione e che scopre in lui, riconosce in lui delle doti particolari. Polacco aveva delle doti esoteriche, parapsicologici, straordinarie, e riconosce in questo ragazzo la stessa cosa, cosa che lui, fra l'altro, già sapeva, sapeva di essere diverso dagli altri e gli insegna delle cose, gli insegna, di questo non sappiamo molto se non accenni, andiamo indietro di un secolo, quindi testimonianze scritte non abbiamo, se non accenni, dirò lo stesso successivamente. Questo Polacco che lo rende consapevole di quello e di chi lui è. Infatti, poi successivamente, lui fa esercizi di concentrazione, meditazione, soprattutto con le carte, che poi sono i suoi compagni inseparabili per tutta la vita, e ha a un certo punto una sorta di illuminazione, vado velocemente, che rappresentò per lui anche una crisi molto forte. Lui, questo l'ha detto, è una cosa terribile, questa illuminazione, detto in termini orientali, perché sono gli unici che riesco a usare, una sorta di risveglio della Kundalini, diciamo. Questa energia, la Kundalini vuol dire serpente in termini sanscriti, e questa energia che tutti abbiamo e che riposa acciambellata come un serpente, il telefono fisso, che riposa alla base della nostra spina dorsale e che a un certo punto si risveglia, risvegliata in seguito ad esercizi particolari, sale lungo la colonna svegliare, la colonna vertebrale, risveglia i diversi chakra fino ad arrivare al chakra dei mille petali della testa. Quindi questo comporta l'acquisizione dei colleghi orientali che amano Sibi, cioè i poteri. E lui, infatti, in lui poco per volta si svegliano, si manifestano tutte le sue potenzialità, quelle che lui poi ha manifestato per tutta la vita, possibilità di leggenza, di precognizione, di diagnosi, letture in libri chiusi, pitture, disegno diretto, cioè senza toccare il materiale, le cose alle quali anch'io ho assistito, appunto lettura nei libri chiusi, bilocazione, capacità di guarigione, di diagnosi, tutte queste cose. Lui poco per volta le acquisisce, con una grande crisi, infatti lui chiese un permesso di tre mesi, questo permesso che è stato ritrovato alla banca per esaurimento nervoso e si ritirò in una casa di esercizi spirituali vicino a Torino. che lui conosceva già perché andava lì per gli esercizi quando faceva la preparazione per la comunione e la cresima e ci rimane tre mesi. Lo tira fuori la madre come lui stesso raccontò, con la quale lui si era confidato dicendo bene, tu hai questi poteri, esci e usali per il bene del tuo prossimo. E lui così ha fatto per tutta la vita, lui non ha mai chiesto un soldo a nessuno, ha sempre operato generosamente in maniera diciamo molto discreta nel senso che lui ha voluto non ha voluto mai diventare un fenomeno da baraccone, non è mai andato in televisione né a congressi né conferenze né radio eccetera e ha condotto una vita lui diceva voglio essere un uomo tra gli uomini cioè ha condotto una vita normale lui diede le dimissioni dalla banca nel 34 appena morì il padre il giorno dopo dà le dimissioni dalla banca torna a Torino intanto si era sposato torna a Torino e comincia a fare condurre quella vita che poi ha sempre condotto cioè di aiuto al prossimo andava spesso anche negli ospedali era il suo numero di telefono era in elenco quindi le persone lo raggiungevano facilmente poi lavorava aveva una bottega bellissima in bottega d'antiquariato poi era pittore gli ultimi anni esclusivamente pittore e poi queste grandi serate che lui faceva in casa sua o in casa di amici alle quali io appunto alcune volte ha partecipato dove dava modo alle sue doti di manifestarsi forse era una sua necessità una sorta di gioco perché queste serate avvenivano in un clima molto ludico molto sereno con piccoli gruppi di persone selezionate e aveva bisogno di un gruppo armonico intorno e questo è una costante con i grandi sensitivi che hanno bisogno non di un grande pubblico ma di un pubblico di osservatori anche critici però armonico presso di lui avveniva tutto in piena luce lui non toccava mai niente e tutto avveniva con la collaborazione con le indicazioni dei presenti questo per una vita cioè per più di 50 anni 60 anni lui ha condotto questo tipo di vita e su questo tipo di vita che potrebbe detto così apparire monotono c'è da raccontare un mondo di cose perché gli incontri che lui ha fatto sono stati tanti gli aiuti che ha potuto dare altrettanti c'è tanta gente grata a lui che ho potuto incontrare quindi è stato un uomo molto particolare questo come minimo va detto ecco come dicevi non è mai apparso in televisione anche se io ho un ricordo molto vivo io ho sentito parlare in età adulta diciamo per la prima volta di Roll circa credo 20 anni fa quindi avevo poco più di 20 anni ne ho sentito parlare io sono di Torino quindi ne ho sentito parlare da alcuni miei concittadini poi era il periodo in cui Torino stava iniziando a diventare diciamo turistica se così vogliamo vogliamo dire per cui iniziavano i primi tour sulla Torino magica sulla Torino esoterica quindi ecco che lì mi avevano parlato i Roll ma io in realtà ho un ricordo molto vivido dicevo della l'unica appunto apparizione in realtà telefonica che Roll fece in tv ad un programma di Raffaella Carrà con Franco Zeffirelli che lo chiamò in diretta io ricordo perfettamente le sue parole parole di questo signore ormai anziano anzianotto perché credo avesse già più di 80 anni o all'incirca 80 e che diceva dava questo messaggio di pace ai giovani esortando a creare gli Stati Uniti del mondo ho questo veramente questo ricordo infatti che ricordiamo tutti ed è stato più volte ripresentato perché è un unico non si presentava al pubblico esatto e niente questo è stato un po' il mio ricordo ma in tutto questo tu hai sottolineato giustamente che lui non chiedeva soldi per ciò che faceva a livello proprio di medianità se così vogliamo dire o comunque sia perché quanto riguarda i i doni che lui aveva anche se se non sbaglio non non li chiamava doni ma usava il termine di possibilità di possibilità esatto e non ha appunto mai chiesto soldi e nonostante ciò molti come diceva prima Giampaolo erano i suoi detrattori in un certo senso che lo etichettavano come ma sì è un mago è un prestigiatore è un un illusionista ma come dicevi tu poco fa lui non non toccava mai gli oggetti che poi prendeva ci racconterai tu che cosa facevano questi oggetti che cosa faceva con le carte e quant'altro allora lui non toccava mai i materiali ricordo la prima volta che partecipai a un suo esperimento eravamo in casa del giornalista Remo Lugli il giornalista è morto qualche anno fa giornalista della stampa di Torino che faceva parte del gruppo ristretto dei suoi amici in quel periodo cioè tutti i sabati si incontravano con lui io ero amica sua della sua famiglia e lui mi chiese se ero interessata a incontrare Roli e disse certo naturalmente però come si fa perché lui aveva non è che accettasse chiunque insomma e Remo Lugli mi disse guarda io sono a Modena tu vieni a Torino ospite mio e di mia moglie una sera che noi sappiamo che viene Roli e ti facciamo trovare lì facciamo una sorta di sorpresa anche se lui non amava molto le sorprese però lui mi conosceva e pensava che non intanto sono una donna che lui era molto galante con il signore e poi conoscendomi sapeva che non avrei turbato e che Roli avrebbe capito infatti così feci andai da loro quando arrivo a Roli mi ricordo ero un po' nozionata questo bel signore chissà se mi permetterà di restare quindi lui arriva invece mi guardò con curiosità con interesse e poi mi disse no no mi fece fare mi prese per mano così mi fece fare un giro su me stessa non so che cosa abbia significato per lui questo però alla fine del giro si vede che mi radiografò da cima a fondo e disse ok puoi restare e infatti restiamo la sera lo svolgimento abituale cioè primo momento in salotto dove chi ospitava offriva sempre qualche dolcetto lui era golosissimo fra l'altro un po' di vino bianco e poi nel giro di una mezz'ora si passava al tavolo col tappeto verde degli esperimenti lui sempre usò questo e disse siccome Paola è la prima volta che partecipa faremo soltanto io lo sottolino tra virgolette esperimenti con le carte quindi mi mette in mano due mazzi di carte nuovi ancora incelofanati quindi li ho spacchetto io mi fece mescolare questi mazzi lui era dalla parte opposta del tavolo di fronte a me e suggeriva quello che mi suggeriva nel senso che diceva che cosa vuoi che facciamo che se mi scelgo facciamo qui facciamo là te ne dico uno di questi esperimenti che ti dà l'esempio io avevo dice mescola bene i mazzi di carte e tienci la mano sopra coperti naturalmente e scegli un seme io scelsi i fiori e lui mi disse adesso desidera che tutte le carte di fiori che sono in questi due mazzi salgano in superficie io obiettai che se lo desideravo io probabilmente non sarebbe successo niente lui mi dice aiuto io lui sempre dalla parte opposta senza toccare le carte stiamo in silenzio in concentrazione 30 secondi e poi è fatto io comincio ad alzare tutte le carte erano credo 24 credo le carte di fiori di due mazzi erano tutte le carte di fiori quindi io mi affretto a controllare il resto del pacco di carte erano tutte mescolatissime come io avevo avevo fatto avevo mescolato tutto molto bene lui dopo rideva quando tutti stupefatti così lui dopo rideva era contento che l'esperimento aveva funzionato e gli amici mi dicevano che non ripeteva mai lo stesso esperimento tutte le volte c'era qualcosa di nuovo insomma te la faccio breve per un'ora lui sperimentò con me cioè le carte in mano a me obbedivano a lui chiaramente ricordo che poco tempo dopo andai a un congresso dove incontrai Alexander il prestigiatore che tuttora gli ho parlato anche di recente e gli disse sai Alexander io ho incontrato Roll lui ha avuto anche lui un'esperienza con Roll telefonica poi l'ha raccontata un fatto di veggenza molto notevole e quando gli spiegai come lui le toccava le carte dico no lui non ha mai toccato le carte allora lui mi disse in queste condizioni io non potrei fare niente cioè noi prestigiatori possiamo imitare quello che fa Roll però se abbiamo la possibilità di toccare le carte se non le tocchiamo e quindi io sono rimasta con questo giudizio suo e poi ne parlai anche con Giucas Casella mi incontrai in altre occasioni anche lui mi disse la stessa cosa che senza toccare le carte cioè lui non era un illusionista aveva dei fenomeni c'è chi ritiene tra cui Fellini che ebbe con lui degli esperimenti con le carte straordinarie che lui avesse il potere di smaterializzare rimaterializzare cioè per esempio con Fellini l'ha raccontato lui l'ho riportato anche nel mio libro mi disse di prendere una qualsiasi carta da un mazzo di carte e di tenerla contro il petto voltata verso senza dire a nessuno che carta era voltata con i segni voltati verso il petto e lui mi pare che scelse il 6 di cuori e poi gli chiese che cosa desideri che diventi questa carta e lui disse per esempio il 3 di picche allora disse tieni la carta così e desidera che questo avvenga senza guardare e Fellini racconta che invece mentre ero un attimo concentrato la guardò disobbedendo e vide una cosa che gli diede il volta stomaco nel senso che vide la carta rossa le carte di segno rosso dei cuori che si dissolveva e diventava nero perché aveva chiesto picche quindi questo esplosimento fu fatto anche con altre persone di due persone Fellini e un altro giornalista che anche lui guardò avendo come un senso di repulsione però era proprio il dissolvimento di una carta per farla diventare un'altra quindi proprio un episodio di smaterializzazione e rimaterializzazione ecco Giampaolo prima dicevamo appunto che Roll non parlava mai di doni ma di possibilità un po' come se in un certo senso tutti potrebbero avere queste possibilità questa è una domanda veramente molto interessante mi farà piacere poi sentire la nostra ospite perché ci si potrebbe chiedere lei stessa diceva presentando l'argomento di uomini così ne lasce uno ogni tanti secoli mi chiedo se lui stesso ritenesse di avere più possibilità di altri o di aver trovato il modo di accedere a possibilità che hanno tutti che potrebbero potenzialmente avere tutti se superassero quel barco coscienziale tu Paola che cosa richieni in merito questo ma dunque questo non si è mai capito molto bene lui era consapevole fin da piccolo di avere delle doti particolari tant'è vero che abbiamo trovato è stato trovato su il suo libro di Pinocchio che lui leggeva e fece una scritta sul libro di Pinocchio che non aveva ancora 11 anni è stata ritrovata che ho riprodotto nel libro dove dice che in lui c'è qualcosa di particolare per questo sarà sempre una persona sola da giovane sarò come un vecchio tra i giovani e da vecchio sarò un vecchio tutto solo è un pensiero molto molto profondo per un bambino che denota una consapevolezza precoce di quello che è ora quando Roll dice che sono solo viene quasi da sorridere nel senso che non c'è stata persona più socievole più conviviale di lui io penso che si riferisse alla solitudine che veniva dal suo essere così diverso dagli altri cioè quindi se anche apparentemente era sempre circondato di amici ricercatissimo lui stesso amante della compagnia eccetera però questa consapevolezza di essere un unicum diciamo lo rendeva solo perché questa nessuno ti può capire fino in fondo e lui certamente aveva delle doti che già quel polacco di cui si parlava all'inizio intuì e poi lui ha lavorato molto su queste doti e lui ha sempre detto che questi doni lui li ha avuti in cambio della rinuncia all'orgoglio al denaro e a queste cose insomma di non inorgoglirsi di questo di farne buon uso di non chiedere soldi quindi la rinuncia a tutto quello che i più desiderano cioè la fama l'onore i soldi e così via lui questo l'ha ripetuto sempre questa cosa interessantissima che dici volevo farti una domanda tu hai più volte citato questo misterioso uomo polacco che è il primo che riconosce le possibilità che tu sappia è successo anche a Ro di riconoscere in qualcuno le possibilità come era successo a questo uomo polacco no non lo so non mi risulta che Ro l'abbia scoperto in altre persone sai questo che mi chiedi si però l'abbia scoperto in altri delle doti uguali alle sue infatti Ro non ha lasciato allievi tra virgolette non ha lasciato un'eredità probabilmente non ha incontrato le persone giuste le persone giuste e c'è un'altra domanda che ci tenevo molto a farti da un lato volevo chiederti se secondo te lui in qualche modo ha mai tenuto di non essere creduto o se era un argomento che come dire aveva superato e dall'altro se secondo te era un uomo in grado anche di incutere timore e paura per le doti che aveva oppure no ma dunque lui si arrabbiò sempre molto si deluso si mortificò sempre molto del fatto che gli scienziati che avrebbero voluto studiarlo e che lui avrebbe accettato proponevano sempre di andare da lui con un prestigiatore e quindi questo lui rimase un'offesa enorme perché lo prendevano appunto per un illusionista temevano che fosse un illusionista sentendo raccontare le cose che facevano e volevano sottometterlo alla prova dei prestigiatori cosa che lui non accettò mai ed è questo il motivo per cui lui non è stato studiato io so anche di parapsicologi famosi come il professor Bender di Friburgo che era cattedratico di parapsicologia che ho conosciuto molto bene andò una volta da Rol e così privatamente assistente a delle cose straordinarie e poi chiese se poteva tornare con la macchina con una cinepresa e con un prestigiatore e lui disse di no il prestigiatore lui non lo voleva lui voleva essere studiato dagli scienziati in ambiente tranquillo fiducioso cosa che non che non esatto da esperti non da prestigiatore non si voleva mettere a livello aveva stima dei prestigiatori ma era un'altra cosa diciamo la seconda domanda scusa qual era se chiedevo se secondo te era un uomo che poteva anche incutere timore e paura negli altri per le possibilità delle donne ma guarda io non ho mai avuto da lui l'ho incontrato diverse volte sono stata anche a tu per tu da sola con lui perché una volta dovevamo parlare lui mi aveva chiesto di andare da lui appunto per parlare delle sue donne eccetera io ho sempre sentito da lui un senso di serenità di protezione lui aveva tanti anni più di me l'ho sempre sentito anche un po' come un padre come età diciamo e poi queste sue cose avvenivano in un tale crima di serenità di gioia che non potevano suscitare paura erano sempre fenomeni positivi ludici per tanti aspetti bianche io ricordo che quando il fenomeno riusciva per esempio il più grosso che ho visto con lui che ha visto me come protagonista quando mi fece apparire in un foglio bianco che mi ero messa sotto la camicetta addirittura dentro il reggipetto e vi di apparire una pittura di Picasso avendo io scelto il pittore e che cosa volevo che in questa pittura venisse rappresentato anche un soggetto molto complicato questo l'ho raccontato bene nel libro qui l'ho detto telegraficamente è un procedimento un po' complesso dove c'erano anche le carte e così via come che quando tiro fuori dalla mia camicetta questo foglio che non era più bianco e che lui mi fece immergere in una tazza non era più bianco dalla parte interna lo sentì che era già diversa la carta me la fece immergere in una tazza d'acqua e poi lo tiro su lo aprì e dentro c'era con lo stile di Picasso la scena che io avevo desiderato che apparisse quindi niente che faceva l'ho fatto tutto io ecco io mi ricordo la gioia anche sua quando si rendeva conto che il fenomeno era avvenuto che anche questa volta aveva funzionato quindi eravamo noi tutti e questo avveniva in un clima di serenità di gioia di sorpresa gioiosa ecco non credo proprio che nessuno abbia mai provato sensazioni di di paura o di sgomento erano sempre incontri che avvenivano in un'atmosfera amorevole in un'atmosfera ludica e anche nel desiderio suo questo è importante che chi assisteva a questi fenomeni si chiedesse da dove i fenomeni venivano lui diceva di non essere lui il creatore di essere il canale attraverso questo avveniva ma l'origine era più in alto lui indicava sempre la dimensione trascendente dalla quale questo gli veniva dalla quale gli era permesso di fare queste cose che non erano apparentemente fattibili da un essere umano lui si definiva la grondaia che convoglia l'acqua che viene dal cielo e diceva non è la grondaia che dovete analizzare è l'acqua che viene dal cielo quindi io posso fare queste cose perché mi posso connettere sono il tramite attraverso questo e questo dovete capirlo lui ha sempre insistito a volte anche rimproverato i suoi amici abituali che partecipavano alle sedute agli incontri non posso chiamare le sedute agli esperimenti alle serate perché lui diceva voi assistete a questi fuochi d'artificio io ho riempito molte ore della vostra noia ma voi non vi chiedete da dove viene tutto questo questo era l'unico rimprovero che a volte faceva non vi chiedete da dove tutto questo avviene e perché e questa era la sua spiegazione ma mai sensazioni di timore assolutamente ecco ma a proposito di questo lui allo stesso tempo come dicevi era felice gioioso nel momento in cui vedeva che il fenomeno era effettivamente avvenuto ma come dicevi tu prima nel momento in cui lui scopre queste possibilità ha come un momento di 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 terrore e di sconforto quasi di repulsione verso quello che ha scoperto inizialmente questo risulta dai documenti che abbiamo trovato che ho potuto riportare nel mio libro risulta proprio la crisi che lui ebbe perché possedere queste capacità queste potenzialità ti rende solo e ti rende anche una vita unica una vita non semplice ci mise parecchio ad accettare e lui poter accettarlo potuto ricostruire praticamente dopo quello che successe in guerra e lui aveva all'epoca aveva 40 anni questi poteri li aveva già da tempo però ancora li viveva in solitaria faceva esperimenti con se stesso eccetera durante la guerra lui potè rendersi conto di quanto poteva essere utile questa è una cosa abbastanza nota che l'ha raccontata lui stesso in un libro che ha fatto che si chiama che pubblicato Diario di un capitano degli alpini lui aveva fatto il servizio militare come alpino e durante la guerra per un certo tempo servì come capitano degli alpini ed era con la famiglia sfollato a San Secondo di Pinerolo dove la famiglia Rolo aveva questa bella casa palazzetto proprio di Campania dove passava l'estate e lì si era quartierato anche al quartier generale il comando dei tedeschi in zona con il quale lui che viveva lì con la moglie la mamma le sorelle eccetera stabilì un rapporto cordiale e facendo esperimenti lui racconta con molta discrezione ma si legge fra le righe quando dice so soltanto io quello che ho fatto stanotte quanti esperimenti ho fatto stanotte perché faceva questi esperimenti con i tedeschi perché lui tentava di salvare e così fece tante persone che i tedeschi avrebbero messo al muro quindi lui diceva ma no ma perché lo fate questa persona è innocente non ha fatto niente e loro gli chiedevano ma come fa lei a sapere che sono innocenti e lui rispondeva lo so come so esattamente quello che c'è nel cassetto della sua scrivania o del suo comodino Hamburgo Norimberga dove era e lui passava le notti praticamente scambiando esperimenti e contatti con le famiglie lui li metteva in contatto con le famiglie per dare notizie con la vita di queste persone e alla fine della guerra il sindaco di San Secondo gli ha lasciato un documento che pubblico l'ho pubblicato in cui Rol viene ringraziato a nome di tutta la popolazione per l'aiuto che coraggiosamente ha dato la popolazione era un'operazione rischiosa quello che lui faceva ma l'accettò e si rese conto così di quanto bene poteva fare con i suoi doni e questo ha fatto è dall'epoca della guerra che lui ha accettato se stesso ecco da allora in avanti quindi poi per 50 anni praticamente dagli anni 40 fino agli anni 90 quando è mancato lui ha condotto questa vita dove l'aiuto al prossimo era sempre il primo posto pensate che lui è tanti tanti medici erano sui amici chirurghi lui è stato per esempio Achille D'Ogliotti il più grande chirurgo del secolo scorso lo voleva in sala operatoria con sé perché quando c'era un caso particolarmente difficile non solo lui io ho parlato con tanti amici suoi medici che ancora ci sono e che testimoniano di questo ma infatti volevo proprio chiederti questo perché è un punto che mi è sempre stato a cuore in un certo senso ho trovato sempre molto interessante perché so di medici molto di medici molto importanti ed influenti a Torino cito per esempio il professor Sesia che frequentavano Roll e chiedevano consiglio a Roll su determinati casi e casistiche e è sempre un po' curioso vedere uomini di scienza così magari razionali nel loro lavoro ma che allo stesso tempo aprivano la mente e le possibilità anche loro ad altri confini se vogliamo cosa che adesso forse è più difficile da trovare dunque non so perché non c'è nessuno a livello di Roll per cui non so come reagirebbero oggi i medici negli anni 70 80 soprattutto per quello che mi riguarda negli anni 80 perché in quegli anni che io ho frequentato Roll però so di cose anche molto prima che si affidavano a lui anche qui bisogna anche leggere ho trovato tante lettere di questi medici di queste persone che avevano fiducia in lui la Fiat personaggi importanti della Fiat si rivolgevano a lui per consiglio che lui faceva con molta discrezione con molta discrezione e quindi mi confermava la signora Rosa D'Amico che è la portenaia della sua casa che ha visto passare di tutto perché si fermavano da lei prima di salire attori importantissimi da come dicevo Feline e Zeffire l'abbiamo parlato ma da lui andavano Vittorio Gassman andava personaggi molto importanti dell'arte Angelo Dragone il critico d'arte andavano tanti giornalisti della stampa andavano personaggi della Fiat Romiti molto spesso ho trovato tante lettere di Romiti di Umberto Agnelli con quale si davano del tu che dicevano appunto che ricevevano da lui dei consigli questo veniva fatto con discrezione ma veniva fatto e poi tantissimi personaggi appunto importanti come medici tanti medici che io poi ho anche intervistato il dottor Malone il dottor tanti medici che avevano stima in lui provando concretamente attraverso le sue diagnosi quello che lui era in grado di fare e anche attraverso qualche qualche guarigione c'è stato anche dei casi di guarigione che lui ha operato senti io so che oltre a tutto ciò Roller ha anche una persona molto religiosa molto decisamente praticante ecco tu sai come viveva lui questo questa combinazione di fattori queste possibilità le viveva anche lì in maniera religiosa e come univa diciamo così i mondi sottili dal mondo fisico ma guarda lui era un cattolico praticante andava sempre nella chiesa della consolata Santa Maria della consolazione lui era nato il giorno della consolata quindi conservò sempre una grande devozione e tante persone l'hanno visto in preghiera anche non necessariamente la domenica anche davanti all'altare della consolata questo bellissimo tempio che c'è a Torino dei Guarini secondo me lui non vedeva nessun tipo di contraddizione nel senso che ha sempre rimandato come dicevamo anche prima alla dimensione spirituale le sue doti che da lì gli venivano quindi lui le aveva accettate e le portava avanti e le praticava rinunciando come dicevo prima all'orgoglio all'egoismo al denaro quindi le portava avanti in maniera cristiana aiutando le persone gratuitamente dando consigli e anzi avvicinandole alla dimensione spirituale questo ha avuto la prova leggendo tutte le lettere che gli sono state inviate e anche parlando poi con tante persone quando insieme a Anselma Dell'Olio abbiamo fatto l'inchiesta per il film in parallelo la facevamo insieme io per il libro e lei per il film che è uscito pochi mesi fa e abbiamo intervistato tantissime persone e che ci hanno detto appunto tutto questo che lui rimandava tutto alla dimensione trascendente quindi questo era una sorta di silenzioso apostolato ecco ecco abbiamo sottolineato più volte appunto che non facesse i suoi esperimenti per denaro abbiamo detto che non ha mai avuto una grande copertura mediatica non è mai stato in televisione non l'ha voluta l'avrebbe avuta esatto e non e ha sempre fatto tutto con molta discrezione come hai sottolineato poco fa eppure tantissime erano le voci contrarie no quelli che appunto lo definivano come dicevamo un illusionista un prestigiatore e addirittura facevano quasi voglio dire delle crociate ma dei insomma erano in forte polemica ma tuttora e tuttora lo sono come va secondo te voglio dire cioè dunque perché dunque intanto io ho constatato che le persone violentamente contrarie erano e sono quelle che non sono mai state da lui che non l'hanno mai visto perché difficilmente non mi risulta di qualcuno che l'abbia incontrato e che poi abbia parlato male di lui meno Piero Angela questo è un discorso a parte Piero Angela andò da lui gli fece vedere roll di tutto di più come mi dicano altre persone che erano presenti e poi quando fece il libro Piero Angela ne parlò in termini molto dubitativi poi ci sarebbe un lungo discorso da fare anche su questo tuttavia insomma lui è sempre stato molto tranquillo cioè non è stata una persona che abbia cercato pubblicità come avevamo detto neppure che l'abbia rifiutata però ha desiderato vivere come voleva vivere e quindi ha vissuto in questa maniera ho constatato come ti dicevo prima che chi parlava contro di lui in genere non lo conosceva tuttora è così a volte voi siete stati da roll l'avete visto? No però ci hanno raccontato perché è impossibile che lui senza toccare facesse queste cose allora ascoltatele io credo che sia molto meglio sospendere il giudizio cioè se non ti trovi di fronte a qualcosa di inusitato che viene testimoniato da persone attendibili non soltanto da me per carità ma persone che l'hanno frequentato per anni e anni e anni persone di alto livello culturale morale eccetera come abbiamo parlato prima che hanno giurato su di lui che sono stati convinti assolutamente allora abbiate l'umiltà di ascoltare queste persone e di chiederle come questo possa essere avvenuto e come voi siete anche lasciati scappare l'occasione di studiare un personaggio del genere se non portandogli un prestigiatore cosa che lui è sempre rifiutato senti Paola io volevo un attimo tornare proprio su il fatto di Piero Angela perché a me questa cosa ha colpito molto ora io non ho ancora potuto leggere il tuo libro non so se tu ne fai menzione nel libro di questo ma a me risulta che Roll a Piero Angela abbia offerto degli esperimenti incontrovertibili anche di lettura anche di lettura al libro chiuso addirittura in posti diversi del mondo rispetto a dove erano loro mi colpisce che Piero Angela è un buon esempio di chi non è disponibile a mettere in discussione la propria costellazione di pensiero in nessun caso ma dunque Piero Angela era già prioristicamente contrario a tutto come il CICAP da lui creato sono persone che negano io ho per esempio delle testimonianze le ho raccontate nel libro di questo incontro con Piero Angela dove Piero Angela incontra Roll Roll lo accoglie Piero Angela di Torino come lui quindi lo accoglie e Piero Angela chiede ma è vero che lei fa la lettura in libri chiusi mi dicono che fa questo e Roll dice sì certo mi capita di farlo qui c'è la mia biblioteca scelga lei un libro che le pare l'apre la pagina che crede legga mentalmente e io via via le dirò quello che lei sta leggendo e Piero Angela dice no faremo di meglio su telefono un mio amico che abita negli Stati Uniti non ricordo in quale città e dico a lui di prendere un libro nella sua libreria e di leggerlo e Piero Angela lo fa prende il telefono di Roll e prende il telefono chiama questo suo amico lo fa saltare dal letto e gli dice scusate gli dice di aprire un libro qualunque o una certa pagina e di leggere mentalmente questo avviene e mentre l'amico a Boston facciamo legge mentalmente Roll dice che cosa l'amico sta leggendo e Piero Angela glielo riferisce e l'amico disse sì sto leggendo questo direi un esperimento da manuale e questo sembrava che avesse convinto Piero Angela invece questo non bastò tant'è vero che Piero Angela dopo un po' se ne andò e Roll evidentemente qualcosa doveva avere intuito perché poi al giornalista Nevio Boni che era lì e adesso è morto l'anno scorso però lui queste cose le ha pubblicate sulla stampa e al giornalista Nevio Boni Roll disse adesso lui se ne va però poveretto chi sai cosa ne capiterà perché io gli ho impresso la mia firma su tutti i suoi documenti cioè carta di identità carta di credito eccetera su tutto e Nevio Boni dice io questo l'ho pubblicato sulla stampa e non è mai stato smentito Piero Angela non ha smentito quindi questo è sacrosanta verità quindi questo fu il rapporto fra di loro era anche scherzoso Roll diciamo goliardicamente vendicativo ecco in questo in questo modo il rapporto con Piero Angela andò così ma comunque Roll rimase offesissimo di questa cosa tant'è vero che quando uscì il libro dopo mi telefonò noi intanto ci eravamo conosciuti allora scrivevo per la Domenica del Corriere e lui mi mi telefonò e mi chiese di andare da lui perché io dovevo vendicarlo di Piero Angela io vado da lui una sera mi invita a cena fuori insieme l'amica la moglie di Remo Lugli e poi dopo cena dice alla signora Lugli di andarsene a casa che lui voleva parlare con me infatti andiamo su a casa sua dove c'era sua moglie però sua moglie non la si vedeva mai sua moglie non partecipava alle sue cose e lui mi dice che adesso mi dirà delle cose per vendicarlo di Piero Angela e fu una serata veramente memorabile perché naturalmente io mi ero portata tutto il registratore eccetera quindi con lui ci sediamo e questa sua meravigliosa casa aveva una casa stupenda piena di mobili stile Impero molti reperti napoleonici che lo aveva raccolto e poi sono state donate una parentesi al museo napoleonico di Roma dopo la sua morte e allora appena vedi il registratore dice no 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 mettilo via mettilo via perché il registratore mi distrae e mi dà fastidio allora io tiro fuori il mio block notice mi ero provvista di tutto non vuole neanche il block notice allora dice stai attenta che adesso ti dico delle cose comincia a raccontare delle cose in quel momento io noto su una poltroncina Impero che aveva lì una sfera grande così di almeno mezzo metri di diametro antica tipo sfera divinatoria e mi chiedo ma dottore cos'è questo mai visto una roba così grande si vedeva questo vetro marmorizzato argentato e lui dice è una sfera divinatoria che due anziane signorine di Torino l'avevano in casa come retaggio familiare non sapendo a chi lasciarla l'hanno portata a me e poi in quel momento cambia espressione dice vogliamo vedere a che cosa serve ce lo dirà a tre cani gli dà in mano il solito mazzo di carte mi dice di sollevare le carte le faccio breve ci mettiamo d'accordo con la prima smazzata avrei tirato fuori quale volume della tre cani avrei trovato la definizione di questa sfera nella seconda la pagina nella terza la riga nella quarta il numero delle parole quindi adesso è fuori adesso non mi ricordo mi ricordo il volume 14 pagina 300 e qualcosa quarta riga quattro parole io adesso vado a prendere la tre cani che era nella stanza accanto dice no no aspetta la troveremo anche prima si chiude gli occhi un attimo e scrive così con la scrittura automatica a contemplare la vita dice adesso vai a prendere la tre cani vado a prendere la tre cani quel volume quella pagina quella riga trovo queste parole che lui aveva scritto in automatico e che indubbiamente indubbiamente descrivono abbastanza bene lo scopo e il ruolo di una sfera divinatoria ecco dopo questa cosa non non parliamo più di vendetta abbiamo parlato del più e del meno piacevolmente alla fine lui mi diede mi regalò una sua fotografia che conservo e che ho pubblicato anche nel libro con retro una dedica che io riteni di non meritare assolutamente infatti l'ho scritta la signora Paola Giovetti con devozione quando gli adesso mi vergognai devozione e gli aiuti e gli auguri del mio cuore questa l'ho pubblicata la sua calligrafia particolare l'ho pubblicata allora non mi spiegai questa dedica e non come non mi spiegai questa strana vendetta in seguito dopo che ho fatto il libro sono passati quasi 30 anni e credo di averlo capito cioè non mi disse altro però forse con questo libro che ho fatto un po' l'ho vendicato perché ho raccontato tutte queste cose ho recuperato i suoi documenti inediti le sue lettere più intime e le ho raccontate qui quindi forse con questo libro ho raccontato di lui delle cose che lo faranno valere di fronte a persone che magari non lo conoscano lo faranno conoscere nel modo giusto ecco questo lo credo di aver capito forse un disegno che lui già 30 anni fa aveva perché 30 anni fa anche di più perché io l'ho incontrato questa volta alla fine degli anni 80 quindi 20 anni 80 quindi 40 anni quasi io allora ero una ragazza ancora giovane eccetera e non pensai a tanto ci ho ripensato dopo quando ritenne che fosse giunto il momento di scrivere un libro su di lui e ritrovato questa fotografia che ho sempre conservato ma che avevo dimenticato di avere perché erano passati tanti anni l'avevo tenuto nella cartellina Roll e quando l'ho ritrovato mi sta a vedere che questa questo birbante già allora si immaginava che io avrei scritto su di lui delle cose che l'avrebbero in qualche modo vendicato ecco non so forse mi illudo ma l'ho interpretata l'ho interpretata così mi è stata anche io una piccola pedina nelle sue mani nella sua visione oltre che lui aveva che avrei fatto qualcosa per lui e in qualche modo mi viene a dire che tu hai contemplato la sua vita e l'hai trasmessa ho contemplato la sua vita ho cercato di contemplare la sua vita con discrezione perché alcune cose che sono soltanto sue non andavano neanche scritte cose personali però ho raccontato tutto quello che ho potuto raccontare di lui per farlo conoscere meglio e pubblicando anche questi documenti che fanno capire quanto lui fosse stimato e quanto lui ha dato alle persone senti Paola il nostro podcast si intitola alla ricerca dell'anima e quindi tutti gli ospiti che ci vengono a trovare rispondono ad una stessa domanda che è alla luce di tutto ciò che cos'è per te l'anima? L'anima c'è una domanda da un milione di dollari questa qui l'anima io la interpreto come la nostra intimità più autentica e vera che nel corso della vita dobbiamo riuscire a sentire a far muovere a far parlare ad avere contatto con lei e non dobbiamo vivere facendo finta di non averla intanto prendere atto che l'abbiamo e poi vivere in base a questa che era poi anche il modo con cui Roll invitava le persone che conosceva che partecipavano alla sua vita a vivere avere una consapevolezza di avere un'anima e la nostra interiorità più profonda il nostro autentico sé come direbbero gli psicologi e a vivere in base a questo grazie 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 Paola e grazie per essere stata qui con noi Giampi credo che Paola ne avrebbe ancora da raccontare su Roll per ore e ore quindi tornaci a trovare perché veramente volentieri con piacere mi sono trovata molto bene con le vostre domande la vostra simpatia grazie grazie a te davvero e veramente tornaci a trovare presto perché secondo me potremmo ancora sia approfondire ulteriormente il personaggio il personaggio Roll che sentire altri tuoi racconti magari su qualcosa che so che sta bollendo in pentola grazie grazie mille grazie a te alla prossima ciao a tutti Giampi come dicevo veramente Paola potremmo ascoltarla per ore e con questi discorsi questo pozzo di aneddoti che che ci ha portato no io non vedo l'ora di leggerlo il libro della signora Giovetti sarà sicuramente una lettura interessante come interessante sempre quello di cui si occupa e noi ci vediamo alla prossima e allora un abbraccio e alla prossima ciao ciao alla ricerca dell'anima domande risposte e curiosità sul vivere e sulle rimanere indenni per terrestri curiosi e alieni esperti e alieni esperti di e con Fabio Giuha e Gianpaolo del Bianco grazie a tutti